recenti esperti per cui un qualsiasi opinionista di turno è presentato come un assoluto esperto della materia. Quindi questi sono alcuni elementi tipici delle fake news. Il ricorso direttamente alla platea e il fatto che queste cosiddette conoscenze non sono mai state prodotte all'interno del campo da gioco della scienza e quindi i convegni e quindi il linguaggio con cui gli scienziati si confrontano e comunicano che è quello dei convegni ma è quello delle pubblicazioni scientifiche per cui c'è il disconoscimento del valore delle pubblicazioni scientifiche esattamente come un quadro può essere ridotto non al suo valore artistico ma alla tela sulla quale è disegnata. Una pubblicazione scientifica sono soltanto quattro pagine, non è il linguaggio con cui anni di lavoro sono comunicati e con cui una procedura e con cui delle prove sono rese disponibili a tutti gli altri colleghi perché le possono valutare e perché le possono riprodurre o eventualmente non riprodurre e quindi diciamo disconfermare. Quindi queste direi sono tutte le caratteristiche che almeno da quel poco che ho vissuto sono al netto di alcuni utilitarismi e di alcuni ragionamenti di convenienza che diciamo non ci interessano ma sono alcune delle indicazioni che forse possono incominciare a farci stare con l'antenna e dritte e sospettare che è il caso perlomeno diciamo di approfondire meglio quello che stiamo leggendo perché potrebbe nascondere diciamo una fake news. Permettetemi di aggiungere una cosa che Marco, insomma nella storia di Marco che ho avuto modo di conoscere per rispondere in maniera più approfondita alla domanda di Francesca su come la disinformazione può generare odio la disinformazione che viaggia sui canali social e su internet e Marco ha raccontato l'aspetto come dire no generale di come questa disinformazione può portare a delle alterazioni e aberrazioni ebbene una delle aberrazioni sapete qual è stata che Marco per difendere la scienza e per far progredire la scienza con un progetto di ricerca tra i più prestigiosi che è riuscito ad avere i famosi IRC che si diceva prima dopo aver quel progetto passato tutte le fasi di approvazione dei comitati etici ebbene per difendere quel progetto quella parte di scienza ha ricevuto sapete come premio che cosa? Una lettera anonima con un proiettile dentro questa lettera con delle minacce e per un periodo di tempo Marco è finito sotto scorta perché? Perché chiaramente la disinformazione che genera odio acceca non i macachi che è il modello animale su cui lavora Marco dove sostanzialmente non c'è mai nel suo progetto di ricerca un esperimento che va a ridurre la vista o a eliminare la vista di questi macachi ma semplicemente è una costruzione di una pseudo verità che ha portato Marco a subire minacce lui e l'altro collega quindi io mi sento anche di dire anche a persone come Marco grazie per la forza perché ha dovuto lottare anche contro tribunali, contro giudici che invece di difendere il diritto alla come diremmo di difendere un principio di diritto andavano a lisciare il pelo alle associazioni che praticano odio. Grazie Marco Michela se vuoi aggiungere qualcosa su questo fronte grazie aggiungo qualcosa, le domande che state facendo sono tutte interessantissime verrebbe appena di rispondere a tutte sulle fake news io sono di Cagliari, insegno all'università di Cagliari abbiamo appena avuto un'iniziativa che si chiama Notte dei ricercatori beh gli studenti della scuola di dottorato di neuroscienze di cui io faccio parte avevano organizzato proprio una cosa così come questa con del pubblico, ragazzi, pubblico sulle fake news beh alla fine dei loro interventi hanno fatto degli esempi di fake news e i ragazzi, persone più giovani, riconoscevano subito le fake news chi non riconosceva le fake news erano fondamentalmente persone della mia generazione e qui ritorniamo anche al problema del vaccino chi non si vuole vaccinare che molto spesso è succube delle fake news perché ha paura della modifica del proprio DNA che ha paura dei chip e di tante altre cose sono persone di una generazione poco scienziata voi siete molto più scienziati come dicevano proprio i nostri Elena Cattano eccetera siete molto più scienziati, molto più abituati a ragionare e quindi trarre delle conclusioni basate su delle evidenze rispetto a persone della mia generazione o anche un po' più giovani e su questo per difendersi dalle fake news per difendersi dalle fake news intanto non bisogna affidarsi a dei gruppi in maniera critica la discussione è una cosa importantissima io ho apprezzato molto la domanda fatta da questa ragazza anche perché c'era la mia vicina che diceva la discussione in pubblico la discussione è una cosa fantastica intanto ci dice che siamo in un paese democratico perché in un paese democratico questa discussione non ci sarebbe stata ma si sarebbe sposata una singola tesi e poi la discussione mette a confronto le idee i miei colleghi, i colleghi con cui io sono più amica sono quelli con cui ho discusso ho discusso, mi hanno detto guarda che lì stai sbagliando guarda che devi fare un'altra cosa sono le persone con cui io sono amica la discussione è un qualcosa di preziosissimo quindi non soffermiamoci sull'apparenza delle discussioni che possono sembrare anche antipatiche guardiamo i risultati i risultati quali sono? i risultati sono che adesso siamo qui e non come l'anno scorso ancora chiusi in casa i risultati sono che la scienza ha prodotto quello che doveva produrre la discussione deve esistere come diceva la professoressa Cattaneo è fondamentale per l'avanzamento sentire opinioni diverse e scontrarsi anche pubblicamente perché la gente deve capire che il metodo scientifico essere scienziati nasce proprio dalla discussione l'importante è non essere faziosi l'importante è avere la capacità di accettare anche opinioni diverse se i fatti ci dimostrano che quelle opinioni sono valide poi ultimissima cosa sulle fake news spesso le fake news nascono anche in cioè si presentano anche in maniera quasi banalmente falsa a volte invertono una consonante o una vocale di una rivista che può essere importante o aggiungono qualcosa a una rivista che può essere importante si presentano anche con piccole modifiche che sembra assurdo se uno presta attenzione a quello che legge che ci sia questo errore beh quando ci sono degli errori nelle notizie che vengono trasmesse molto spesso queste sono all'origine poi delle fake news questo per dire un qualcosa che ci può mettere ci può difendere in maniera molto semplice molto banale e poi appunto certi gruppi sociali che promuovono certe idee e che accriticamente vengono sposate poi dagli altri grazie grazie Micaela Paolo voleva aggiungere forse qualcosa ma sai quello alla fine sulle fake news bisogna pure avere degli strumenti operativi un metodo che a me piace è usare il metodo che si usa nel diritto anglosassone che è quello cosiddetto della best evidence cioè noi di solito andiamo e raccontiamo tutti i fatti gli antefatti costruiamo i nostri argomenti teorici nel diritto anglosassone il giudice ti dice voti il best evidence qual è la migliore evidenza che mi puoi fornire per esempio nel dibattito vax no vax se uno mi chiedesse qual è la migliore evidenza io direi il 90% degli ospedalizzati non è vaccinato sono 8 parole se sei uno vax non applaudite me perché il vaccino non l'ho fatto io ci avrei in sacca di sordi mostrare qua se sei uno vax più o meno mi devi dare la tua best evidence diciamo in 16 parole sia te lo ho dato in 8 ti do il doppio della possibilità e poi chi ha fatto la domanda decidi a chi vuole credere diciamo ecco di solito quello che succede è che se uno ha una best evidence da offrire quella è fattuale breve circostanziata e ti colpisce come un pugno se cominci a fare il racconto da Adamo e Eva io glielo farei pure fare poi la persona che ha fatto la domanda decide se preferisce questa o quell'altra ecco dare una singola possibilità di risposta secondo me è una buona maniera per cominciare a separare il grano dall'oglio come scritto nella Bibbia ottimo Sebastiano e Sindaco avete altri 5 minuti di pazienza che ci sono i ragazzi che c'è un'altra domanda lì e vorrei giusto una battuta prima si diceva la paura dei vaccini quello che sta ha raccontato Micaela e Paolo forse quelli che pensano che i vaccini possano modificare il proprio patrimonio genetico lo devono vedere come un'opportunità non come un rischio una domanda molto veloce secondo voi come va interpretato il rapporto tra fede e scienza però religione intesa non come superstizione come religione non superstiziosa e qui sono rimasti Marco e Michele a dare una vi tocca a voi queste buongiorno a tutti sono Marco Norati vengo dall'università di Pisa ti ringrazio per la domanda e devo anticipare allora una cosa ieri ci chiedevamo chissà che domande faranno i ragazzi parlavamo proprio con Micaela di questo dobbiamo essere pronti a chissà quelle domande questa è una domanda veramente importante non c'è una risposta cioè questo lo voglio dire subito però possiamo portare degli esempi ora mi sono trovato in realtà a lavorare lo confesso ero in realtà nel laboratorio di Elena Cattaneo quindi la conosco bene abbiamo fatto insomma abbiamo condiviso un percorso insieme e lì ho cominciato a lavorare sulle cellule staminali embrionali umane ok e quello forse è un argomento in cui c'è stato c'è tuttora ok un dibattito forte tra appunto la scienza possiamo dire poi i ricercatori che sono al bancone che ritengono che questo sia uno strumento importante studiare la natura in sé quindi il concetto di cellula staminale quel concetto che si chiama anche pluripotenza cioè come una cellula staminale embrionale è in grado durante il suo percorso quindi durante lo sviluppo quindi per pochi giorni mantiene questa capacità eccezionale di dare origine a tutti i tipi cellulari che si trovano nel nostro corpo noi abbiamo più di 250 tipi differenti di cellule quindi una singola cellula può costruire diciamo un interorganismo diciamo cellula per cellula e quindi da una parte ci sono i ricercatori che portano the best evidence cioè sono eccezionali queste cellule come appunto chiedeva il professor per Paolo Di Fiore quindi la best evidence cioè fanno cose che non fa nessun altro ok dall'altra c'è il dibattito etico soprattutto diciamo di origine possiamo dire un po' cattolico di religione in senso lato poi fede ecco io lo porterei poi è difficile ancora no discriminare tra le diverse fedi no però posso portare un esempio ecco che poi abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle in Italia quindi con un dibattito che è ancora in corso e che invece dice beh la vita fa protetta dall'istante in cui diciamo si forma potremmo dire quindi a seguito della fecondazione anche questo è opinabile perché comunque non è che nasciamo in un istante la cellula uovo in realtà deriva già da un organismo precedente quindi mettere un inizio e una fine anche qui è un po' arbitrario secondo me il patrimonio genetico già proviene in realtà anche dai genitori e così da tutti i nostri progenitori e dice beh la vita va protetta e quindi non si può studiare ok cioè questo è il limite non si può nemmeno studiare questo oggetto perché deriverebbe diciamo dal sacrificio usiamo questo termine di un organismo potenziale ok che è una vita umana ora è un argomento importante quindi non lo voglio sottovalutare non voglio creare il dibattito diciamo da una parte o dall'altra quindi il dibattito deve arrivare anche si arricchisce in questa fase ok però ci sono poi delle cose pratiche di cui tenere no tenere in considerazione insomma nessuno nel mondo tantomeno in Italia o nei nostri laboratori di ricerca ha mai pensato di sacrificare una vita umana per poterne studiare la natura quindi prende una blastocisti quindi 4-5 giorni dopo la fecondazione quindi un embrione che diventerà appunto possibilmente un organismo fetale e poi un adulto per poterlo studiare ok quindi quello che si è fatto in realtà finora è quello di prendere quelli che sono per esempio degli embrioni sovrannumerari destinati alla distruzione ok quindi in seguito alla fertilizzazione insomma poi magari non andiamo troppo nei dettagli possono essere generati degli embrioni che non possono o non verranno mai più impiantati perché magari i genitori non vogliono più avere figli se ne hanno avuti già una decina destinati quindi a una si chiama conservazione distruttiva cioè vengono messi in azoto liquido per anni ma prima o poi verranno distrutti quindi sono quelli no stiamo parlando di questa c'è una masserellina di cellule centinaio circa di cellule destinati a essere distrutti e invece possono essere destinati dietro con senso informato chiaramente dei genitori alla ricerca una volta che poi le cellule staminali e embrionali vengono derivate possono essere usate virtualmente per sempre quindi nemmeno c'è un evento di distruzione chiamiamolo così ogni volta quindi una volta che si crea questa linea sono staminali e per tale ragione possono essere mantenuti virtualmente anche per sempre beh comunque questo dibattito in Italia ha portato in realtà potremmo dire a una restrizione che c'è in pochi paesi in Europa per cui non è possibile generare nuove linee di cellule staminali embrionali per fini appunto di studio ma anche per dare non solo lo studio fino a se stesso ovviamente poi qui c'è anche la ricaduta a medio e lungo termine ma anche a breve perché comunque ci sono anche tra gli alclinici in corso che utilizzano cellule staminali embrionali umane proprio per rispondere anche a diciamo un'esigenza di salute nei confronti dei cittadini ecco questa restrizione impedisce a un ricercolatore italiano di utilizzare cioè di derivare nuove linee di cellule staminali embrionali perché diciamo il dibattito un po' spinto diciamo da una parte potrei dire impedisce di farlo però si possono utilizzare quelle già fatte oppure si possono comprare quindi un altro paese le può generare non le possiamo comprare quindi anche qui c'è forse una schizofrenia no? è un termine che è stato utilizzato prima o è immorale e illegale o non lo è allora vogliamo diciamo mettere la testa sotto la sabbia diciamo beh non risolviamo il problema così di tipo etico o di tipo scientifico cioè se sono realmente necessarie per un avanzamento le utilizziamo se non lo sono perché ci sono evidenze per cui sono inutili non le utilizziamo ma se riconosciamo l'utilità e dall'altra parte però non vogliamo sporcarci le mani potremmo dire beh facciamo fare agli altri il lavoro sporco poi le compriamo ce le facciamo regalare le utilizziamo in Italia ecco questo forse è un esempio di un dibattito diciamo che non ha portato secondo me a un buon risultato ok? è un pastrocchio così legale e poi con ricadute pratiche che vabbè si aggirano su questo non aggiungerei molto altro non so se invece ecco non vorrei rubare troppo tempo Michele ha da dire qualcosa di più o con qualche altro esempio applauso a Marco ringrazio Filippo giusto? soprattutto ringrazio Antonio per averci smollato la domanda e faccio complimenti a Marco perché secondo me ci ha cavato i piedi alla grande questa è una domanda molto fondamentale che si pone su piani molto diversi secondo me perché c'è un discorso che riguarda l'etica il rapporto tra etica e scienza quello che ha centrato secondo me bellissimo Marco con alcuni esempi molto calzanti e quello è un rapporto che esiste e che è immanente alla nostra pratica quotidiana noi continuamente ci domandiamo qual è il modo più etico per fare quello che facciamo e per perseguire i risultati che intendiamo perseguire e io credo che esista un modo etico di farlo e che sia importante continuare un dibattito anche con persone che portano istanze diverse purché le portino in maniera onesta e autorevole poi c'è un altro livello che è quello che io rigetto completamente di chi intende la fede in maniera assolutamente dogmatica inalterabile per sempre e qui ci sono molte religioni diciamo più che molte religioni forse molti religiosi addetti religiosi fedeli che intendono la loro fede in quella maniera e che possono generare dei danni gravissimi alla scienza ai cittadini insomma ne abbiamo esempi anche recenti no si parlava del significato democratico della scienza in Afghanistan sicuramente non ci sarà scienza nei prossimi anni no e poi c'è invece un discorso che riguarda la fede e forse questo era il livello che tu avevi in mente no che è un discorso veramente molto molto alto e io personalmente ma penso la maggior parte di noi ha un atteggiamento un po' agnostico riguardo a questa cosa qui no la fede è una cosa molto individuale prima di tutto e poi io credo che sia anche una cosa che evolve nel tempo si rimodella no la la fede che possiamo avere noi che possono avere voi non è sicuramente il tipo di fede che avevano i nostri genitori i nostri nonni no i miei nonni che sono i vostri bisnonni e ancora più indietro nel tempo e se ci pensate no c'è proprio una trasformazione anche da questo punto di vista e io credo che la scienza nel senso le conoscenze abbiano progressivamente rimodellato anche questo questo concetto no non so se l'idea di paradiso per esempio di premio o di al di là che avevano i nostri nonni possa coincidere con quelle che abbiamo noi no anche delle figure religiose importanti no nel loro significato di santità diciamo e però insomma i tre livelli che si colleghino fra di loro e la cosa fondamentale è che la scienza possa andare avanti senza incertezze all'interno di una discussione sull'etica ma senza incertezza io ho cominciato a fare il medico poi ho fatto il medico in maniera strana perché ho abbandonato la clinica ma diciamo che è sempre rimasto in mente l'ulisse dantesco no infatti non foste a vivere come i punti ma per seguire virtude e conoscenza giusto? virtude e conoscenza grazie Michele io darei la chiudo solo con una battuta perché è una bella immagine quindi vi dicevo vengo dall'università di Pisa a Pisa c'è stato Galileo Galilei il fondatore del metodo scientifico quindi oggi ne abbiamo parlato sotto le righe no dietro il metodo il metodo c'era Galileo Galilei e forse ecco l'esempio di Galileo Galilei che ha questa intuizione no afferma anche no cioè una rivoluzione da un punto di vista della conoscenza che va contro il sapere codificato nei testi sacri e gli costa quasi la testa come qualcuno dei suoi insomma colleghi del tempo quindi lui accetta a quel tempo diciamo pur essendo anche abbastanza conosciuto di non dichiarare pubblicamente le sue idee alla fine no dice eppur si muove teniamo che in corso suo ovviamente sapeva che aveva ragione ci sono stati sono voluti forse quattro secoli no per poter ritornare forse a un'immagine che spero no si lasci un pochino di speranza in questo dibattito in questo divario che poi secondo me non esiste ecco tra fede e scienza perseguono entrambi una direzione che è quella del miglioramento dell'uomo ok quindi non si possono rinnegare l'un l'altro e comunque l'immagine che mi viene in mente è proprio quella di Giovanni Paolo II che in realtà è venuto a Pisa di fronte appunto alla tomba di Galileo Galilei insomma ha riconciliato forse questa frattura storica ok quindi questa è l'immagine che voglio vedere in futuro mi piacerebbe quantomeno quindi grandi anche lì cioè gli scienziati ovviamente perseguono una loro ragione vogliono provare certo la scienza non ha forse l'arroganza di poter dimostrare tutto questo è un punto da tenere in considerazione non che forse non ci riuscirà un giorno però oggi è anche brutto sentire dire da tanti tra chiama questi studiosi beh siccome Dio è indimostrabile beh allora lo rinnego boh ci sono tante cose che ancora nemmeno riusciamo a capire ok quindi dimostrarle insomma diamo tempo anche al nostro pensiero di fare il suo percorso diciamo che forse appunto questo cammino ha tanti esempi anche di grandi del passato se prendiamo Einstein anche lui la sua figura è un po' controversa da questo punto di vista ok lo cito perché è difficile dare una risposta possiamo anche vedere un po' gli altri come hanno interpretato quindi Einstein era ateo poi è diventato in realtà un fervente diciamo credente mi sei Dio no nella sua immagine Dio non gioca i dati nelle sue diciamo equazioni mettiamola così per poi forse ripentirse e diventare un po' agnostico però è un dibattito appunto che nella vita di tanti grandi ricercatori scienziati è sempre si affaccia sempre ok però l'unica cosa che mi permetto di dire non creiamo divari lì dove non è necessario che ci siano grazie Marco io a questo punto darei la parola all'assessore Sebastiano Leo per aggiungere un altro aspetto punto nella discussione in questo rapporto scienza fede social sociale e perché no la politica e Sebastiano mi fa piacere che è qui perché anche lui ha supportato la nostra iniziativa l'iniziativa della festa della scienza l'azione di apertamente e lo ringrazio particolarmente perché abbiamo trovato nell'assessore una persona comunque sensibile ai temi della scienza e ai temi della divulgazione prego Sebastiano grazie un saluto a tutti ossequiosi e anche affettuoso soprattutto i nostri studenti ovviamente io abbasso il livello della discussione come qualità insomma allora che dire sì io cerco sempre e comunque di aiutare i percorsi secondo me virtuosi importanti nelle nostre scuole di Puglia e cerco attraverso i dirigenti attraverso i docenti di portare a conoscenza le nostre ragazze insomma le grandi i grandi temi le grandi opportunità e ovviamente il lavoro non è molto semplice occorre come dire impegnarsi molto occorre essere molto appassionati io penso che anche il decisore politico che non dobbiamo sempre e comunque disprezzare perché c'è questa tendenza a parlare male della politica la politica decide è la politica che occorre tra virgolette corteggiare e anche come dire tampinare come volete voi ma insomma occorre sicuramente trovare il modo per coinvolgere la politica io mi faccio coinvolgere sempre da questi temi è chiaro però che nella scuola occorre fare ancora molto occorre costruire ancora tanto e la scuola ha dimostrato io penso che come hanno dimostrato i nostri eroi tutti diciamo i medici diciamo chi ha lavorato chi ha rappresentato diciamo la sanità in questi ultimi anni gli operatori sociosanitari possiamo anche dire sicuramente lo possiamo dire che anche i nostri i nostri docenti sono stati gli eroi di questi due anni perché hanno fatto davvero tantissimo hanno dimostrato in pochissimi mesi di riuscire anche a a cambiare diciamo le traiettorie a cambiare quel percorso che se vogliamo era un percorso centenario da cento anni da duecento anni la scuola diciamo funzionava sempre allo stesso modo diciamo la cattedra i banchi la lavagna con il gesso poi qualche scuola negli ultimi anni ha cambiato un po' e utilizzando la cosiddetta LIM ma insomma più o meno si usava e si usa come una lavagna allo stesso modo e però negli ultimi anni davvero la scuola ha fatto tantissimo moltissimo occorre continuare ad investire nella scuola perché abbiamo diciamo la scuola è il luogo giusto è l'unico luogo non esiste altro spazio dove poter far appassionare i ragazzi alla scienza io dico sempre io ho deleghe straordinarie bellissime sono un assessore regionale che ha avuto un po' strano le stesse deleghe sono stato 5 anni con il presidente Emiliano adesso mi ha rinominato assessore io sono un consigliere regionale eletto quindi come dire ho dovuto anche sottopormi a questa giustissima secondo me valutazione della gente del popolo una volta si diceva i cittadini sono stato anche molto premiato il consenso è stato anche molto alto allora io vorrei proprio impegnarmi perché Michele il nostro presidente mi ha ridato le stesse deleghe istruzione università diritto allo studio formazione del lavoro è una filiera straordinaria la mia perché io penso che a proposito di ricerca di base applicata io non faccio differenza non solo in qualunquisto io penso che la ricerca è quella buona penso che qualunque tipo di ricerca va bene l'importante che sia una buona ricerca ed è chiaro che anche nelle università adesso proprio ieri l'altro ieri c'è stata questa notizia che il ministro Bianchi che era stato con me assessore regionale quindi lo conosco molto bene diciamo con il nuovo piano con il nuovo PNRR diciamo daremo daranno tantissime risorse sia alle scuole ma anche all'università anche la ministra ha dato diciamo delle notizie perché investirà molto nella ricerca ma noi lo facciamo già in Puglia noi spendiamo investiamo tantissime risorse con gli assegni di ricerca con i dottorali di ricerca Refen è stato l'ultimo l'ultima nostra misura 50 milioni di euro per l'università è chiaro però che bisogna essere anche molto più come dire bisogna un po' curvare verso il mondo del lavoro io lo so che molto spesso qualcuno di noi o di voi lo ritiene non troppo non troppo giusto è chiaro che la ricerca deve essere libera su questo non ci sono dubbi e però corre come dire curvare come dicevo prima verso il mondo del lavoro perché altrimenti diciamo non costruiamo percorsi virtuosi io ricordo io sono ho studiato liceo come le mie figlie come tutti quanti i miei parenti e nella scuola soprattutto nel liceo fino a qualche anno fa non si poteva parlare di azienda parlare di lavoro era quasi un sacrileggio soprattutto nel liceo classico non va bene non può essere più così occorre a torto ragione adesso poi è un altro dibattito questo ma noi a 22 anni io ricordo che a 22 anni oggi occorre diciamo avere ragazzi e ragazze pronti per inserirsi nel mondo del lavoro poi come il nostro medico che ha il nostro scienziato che ha detto che ha iniziato a fare il medico poi ha cambiato ha fatto ricerca bellissimo straordinario la ricerca bisogna renderla anche molto attraente come stiamo facendo oggi noi anche divertente quindi far appassionare i nostri ragazzi con gli strumenti con le tecnologie insomma occorre essere molto dinamici noi sino a qualche anno fa pensavamo che gli scienziati erano un po' come dire barbuti un po' solo uomini adesso fortunatamente ci sono anche le donne quindi diciamo si è modificato un po' tutto ed è questo che deve succedere anche la parità di genere fondamentale straordinaria noi abbiamo prodotto qualche mese fa un'agenda di genere straordinaria non solo diciamo come diciamo non solo teorica ma anche molto pratica nel senso che abbiamo dobbiamo fare costruire nei prossimi anni tanti investimenti tanti tanta ricerca tante attività noi abbiamo anche non ce lo scordiamo mai abbiamo anche i fondi strutturali da impegnare io ho in particolare il fondo sociale europeo e quindi tantissime risorse ovviamente il problema è come spenderle queste risorse come investirle non è semplicissimo non sarà semplicissimo l'Italia ha avuto tutti questi miliardi non perché è stata brava questa è una sciocchezza ha avuto le risorse perché ha da fare queste riforme strutturali importanti fondamentali indispensabili e ancora tentenniamo non abbiamo non siamo entrati nel merito anche sul PNRR non stiamo comprendendo bene quello che occorre fare quindi questo è importante tra le altre cose cito un esempio a me piace molto fare sempre diciamo esempi che poi calzano bene nei ragionamenti l'edilizia scolastica anche questo è un problema molto serio per le nostre scuole anche i laboratori anche le palestre poco fa sono stato ad un convegno sull'educazione fisica nelle scuole sport ed educazione fisica nelle scuole noi non abbiamo palestre non abbiamo ore di educazione fisica abbiamo due ore di educazione fisica e come si fa a fare con due ore educazione fisica lo sport nelle scuole è impossibile farlo sono sciocchezze quando si dice che occorre fare che si fa scuola sport ed educazione fisica nelle scuole oltretutto non sono neanche due ore perché poi sapete che le orarie sono anche molto ridotte quindi occorrerebbe impegnarsi non dico come succede negli Stati Uniti che tante volte lì magari basta fare educazione fisica o sport per poi lasciare altre storie io penso che occorre prima conoscere occorre prima avere le conoscenze le competenze le abilità insomma occorre fare tutto questo però occorre investire molto questo lo dobbiamo fare questo è il momento giusto questo è il tempo giusto dicevo l'esempio io con l'edilizia stolastica il mio assessorato ha dato risorse importanti in tantissimi paesi della Puglia ci sono ancora paesi tanti paesi da un paio d'anni che ancora non hanno appaltato le opere per la costruzione per l'amodernamento per l'efficientamento delle scuole e questo è un problema nazionale non è un problema solo pugliese che la Puglia come tutti sappiamo è una regione virtuosa al di là della politica ma comunque è un dato di fatto anche nell'impegno delle risorse comunitarie allora bisogna impegnarsi davvero questo è il tempo giusto è il momento giusto per impegnarsi per fare quello che ci stiamo dicendo perché poi noi lo sappiamo le conosciamo i temi le problematiche è quello che dobbiamo fare ne abbiamo fatti tantissimi di programmi abbiamo parlato tanto siamo bravissimi a parlare anche i nostri ricercatori sono bravissimi non solo perché studiano ma perché abbiamo un estro diverso rispetto agli altri paesi europei e allora dobbiamo impegnarsi molto dobbiamo lavorare insieme dobbiamo condividere i dei progetti bisogna cooperare bisogna abbandonare l'ascia di guerra invidia e gelosia bisogna accantonarle il Salento molto spesso viaggia soprattutto i comuni viaggiano da soli diciamo non è un caso la storia è importante è una delle mie materie preferite cento comuni della provincia di Lecce non è un caso che siano cento comuni perché ognuno ha voluto il proprio campanile e allora invece in questo momento in questo periodo occorre invece stare insieme collaborare costruire progetti virtuosi progetti integrati progetti con un ambito territoriale ottimale perché il paese il piccolo paese e la regione Puglia non può da sola costruire progetti importanti deve necessariamente allargare gli orizzonti ed è chiaro che i nostri ragazzi e ragazze devono avere orizzonti anche importanti ampi è chiaro che devono viaggiare devono conoscere altri territori devono studiare anche all'estero devono ci sono gli strumenti dall'Erasmus a tanti altri strumenti l'importante è che poi diciamo ci siano anche qui nel nostro territorio le opportunità per fare ricerca per fare scienze per fare attività di formazione perché oggi il mondo si è anche se vogliamo ridotto rimpicciolito rispetto alle distanze le distanze sono anche molto brevi la pandemia il covid ce lo ha comunicato ce lo ha dichiarato da un piccolo paese in una qualità sperduta del mondo la pandemia si è sviluppata in tutto il mondo quindi il mondo oggi è globale non teorizziamo più la globalizzazione la pratichiamo quindi dobbiamo impegnarci per studiare tanto ragazzi lo studio è fondamentale io penso e chiudo che tra virgolette si può acquistare quasi tutto nella vita anche la salute molte volte tenendo presente che l'Italia è un paese virtuoso da un punto di vista della sanità la sanità è per tutti e di tutti gli ospedali non guardano se uno è ricco se uno è povero fortunatamente l'Italia è ad altissimi livelli per questo però se uno ha tanti soldi può anche andare all'estero nelle cliniche più importanti al mondo l'istruzione e la formazione no l'istruzione è l'unico ascensore sociale quello che davvero ti dà la possibilità di raggiungere risultati importanti e straordinari grazie a tutti grazie grazie Sebastiano c'era Rosario che voleva dare e do la parola per un breve saluto anche al sindaco di Tricase Antonio De Donno e lo ringrazio per averci ospitato in questa bellissima sala grazie a voi sarò brevissimo userò 16 parole intanto grazie benvenuti ci avete dato un onore immenso perché lo diceva l'assessore spesso la politica l'amministrazione viene vista con un'ottica in cui non si fa uno sforzo ulteriore cioè quello di provare a mettersi dall'altra parte e questi sono momenti utili per condividere esperienze intanto un benvenuto particolare alla senatrice Cattano per noi è un onore averla qui e il livello delle domande fatto bene l'assessore a dire abbassiamo noi il vostro livello scusateci se lo stiamo facendo è altissimo intanto un piccolo amministratore cosa può fare può fare tanto perché la responsabilità di amministrare una città non è solo quella di pensare a quante strade fare quale buche chiudere anche importante ma lo può fare chiunque lo può fare un commissario prefettizio così come lo può fare un funzionario la politica deve provare a portare una visione e a vedere come si può relazionare con un territorio noi ci stiamo provando e le domande che avete fatto ad esempio sul come uscire a testa alta dalle fake news sono correlate con quello che uno vorrebbe potrebbe fare voi avete un grande ruolo e noi dobbiamo schienarvi una strada perché spesso dei giovani si parla come il futuro non capendo che i giovani sono il presente noi non dobbiamo costruire solo ciò che voi potreste fare qui domani ma dobbiamo tenervi in conto oggi per quello che vogliamo fare dovete aiutarci a combattere i disidratatori sociali per usare un termine da xylella in questo territorio e ce ne sono tanti ci sono tanti che provano a togliere l'infa le idee a chi ha voglia di fare a chi ha voglia di costruire percorso e il miglior contrasto sono elementi giovani perché voi siete a contatto con la scuola siete a contatto con l'università cioè siete a contatto con la scienza con quei mondi che vi riportano nella realtà delle cose mentre tanti che stanno a casa per parlare di cattivo utilizzo dei social purtroppo spesso hanno solo quel termine di paragone noi abbiamo disegnato una visione di questo territorio e come diceva l'assessore Leo non lo stiamo facendo da soli solo un comune l'idea è di proporre una strategia in cui in questo territorio si possa vivere bene in maniera lenta curarsi anche mangiando e quindi c'è un grande investimento nel settore della nutraceutica che mi declina in un secondo ed invecchiare meglio perché il passo successivo lo si sta studiando con ad esempio il professore Logroscino che ha portato qui a Tricase grandi pezzi di scienza sulle malattie neurodegenerative e quindi ad esempio noi qua ci troviamo in una struttura storica bellissima noi abbiamo già svuotato tutto questo piano del palazzo stiamo per farlo anche al piano inferiore per togliere i momenti amministrativi per far rivivere questi luoghi con cultura ma anche scienza nella stanza attigua dei ragazzi che hanno vinto un bando su uno spazio di co-working lavoreranno aperto a tutti nel momento in cui la gente verrà a visitare le opere che verranno portate grazie a una convenzione che abbiamo fatto col museo gastromediano di Lecce in questi luoghi e abbiamo provato a mettere i ragazzi che si confrontano che lavorano che studiano nel luogo in cui la gente verrà a visitare il palazzo per la sua storia questo micro progetto tende proprio a legare anche generazioni e mondi fattivi la famiglia Codacci-Pisanelli famiglia storica di questi territori ci sta donando lo studio di Giuseppe Codacci-Pisanelli romano con tutti gli iscritti con gli iscritti con Kennedy con proprio la struttura fisica che chiede il Senato loro la stanno donando al Comune di Tricase proprio in virtù di questa progettualità stiamo per partecipare ad un bando su ecosistemi sull'innovazione importante che è uscito adesso perché in un altro luogo storico che è Acait che è la più antica cooperativa di tabacchicoltura di Puglia 1902 oggi un rudere lì verrà un grande centro di ricerca sulla nutraceutica e non solo noi a luglio abbiamo ospitato sei multinazionali allora abbiamo detto siete eccellenza nel vostro campo ma avete degli scarti di produzione gliel'ho detto io da profano ma dietro c'erano studi di grandi università nazionali ma anche pugliesi tutte le università in cui si è detto proviamo a legare insieme i vostri scarti di produzione e vediamo cosa può venire fuori al fine lo diceva l'assessore di legare scienza e lavoro di insediare in queste comunità delle start up che possano lasciare qui i nostri giovani e non farli andare domani fuori perché la scienza può venire bene a lavorare qui e a creare e qui questi percorsi stanno avendo ormai una definizione è uscito il bando a cui volevamo partecipare e a questo bando parteciperanno l'istituto agronomico del Mediterraneo il comune di Tricas l'ospedale Cardinale Vanico che sta cercando di caratterizzarsi come istituto di ricerca sulle malattie neurodegenerative e anche Enel perché Enel faccio questo perché in questi territori in questo momento storico lo diceva di nuovo l'assessore ci sono una serie di coincidenze fortuite non fortuite ma una serie di amici di personaggi che hanno responsabilità importanti stanno attenzionando questo territorio Tricase si trova ad avere contemporaneamente sul proprio territorio Elemirne che l'avete vista ultimamente negli spot con Chiecco Zalone ma il presidente di Enel ma la D di Dior cioè c'è un mondo che sta guardando a questo territorio in una maniera non solo come da visitare e da starci un mese ma da tenere come laboratorio di eccellenze nel settore in questo caso io vi ho detto della nutraceutica ma non solo quindi una piccola amministrazione locale nel momento in cui ha una visione poi chiede aiuto alla scienza e quindi per il vostro futuro può fare tanto vi dico solo quest'ultima cosa abbiamo fatto un avviso perché abbiamo provato ad immaginare la Tricase nel 2030 in base ai 17 punti dell'agenda ONU sulla sostenibilità abbiamo fatto un avviso hanno risposto una cinquantina di persone le abbiamo divise in gruppo abbiamo fatto tutta una prima fase infatti Regione Puglia nel primo forum sulla sostenibilità ha portato ad esempio la città metropolitana di Bari e la città di Tricase adesso però questo lavoro passa a una seconda fase della condivisione con le scuole noi vogliamo chiedere ai ragazzi noi stiamo pensando questo confrontiamoci perché tutti i passi che faremo nel futuro devono essere fatti insieme con una visione che sia più la vostra che la nostra grazie grazie sindaco di questo intervento che unisce un po' tanti punti insieme grazie e adesso è arrivato finalmente il momento della premiazione tra l'altro ci sono tante scuole collegate anche in streaming a cui va anche il nostro applauso non soltanto ai ragazzi qui in sala ma anche a tutti quelli che ci stanno seguendo su youtube e quindi siamo pronti Tonia per ufficialmente o dare ufficialità diciamo a quello che sono stati i vostri lavori che avete presentato e che sono stati premiati in streaming a maggio ma questa volta li potete vedere sono lì sono reali questi premi e passiamo con il premio laboratorio immunology game è il primo il concorso lampi di luce allora il concorso lampi di luce partiamo con il terzo giusto il terzo classificato sono due scuole che sono arrivate a pari merito e sono la classe terza M dell'istituto Calasso il liceo sportivo di Lecce che sono collegati in streaming i ragazzi un applauso alla e l'altro premio pari merito è la classe quinta dell'istituto Don Tonino Bello qui abbiamo la dirigente e i ragazzi della scuola e loro riceveranno questo kit che vedete proiettato direttamente nelle vostre scuole era particolarmente grande per poterlo portare qui in questa sala quindi lo riceveranno direttamente esatto non è finta non è una fake news è garantito è garantito assolutamente assolutamente eccoli 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 ragazzi che i ragazzi del laboratorio vi salutiamo un applauso ai ragazzi che sono collegati bravi complimenti ragazzi questo è il secondo classificato ce l'abbiamo qui in aula è il liceo Comi la terza C del liceo Comi di Tricase che prende come premio il microscopio più la fotocamera digitale il primo che vedete alla vostra sinistra un applauso e complimenti anche ai ragazzi del liceo Comi e il primo classificato l'ha già ricevuto il premio in aula è un monitor interattivo multitouch 65 pollici magari ad avercelo quindi è stato già consegnato forse c'è una foto eccolo qui la foto della consegna del premio la classe vincitrice la classe quarta A del liceo Stampacchia di Tricase poi abbiamo andiamo sui laboratori la scuola media adesso continuiamo sulla scuola questo è il bello della diretta Paolo nella vita faccio altro quindi mi tocca pure inventarmi presentatore moderatore non è facile quindi Tonia mi dice dalle scuole primarie di primo grado il terzo classificato è sempre un kit di laboratorio introduzione alla biologia e la scuola vincitrice la classe prima è della scuola media casale di brindisi che ci stanno seguendo da remoto un applauso ai ragazzi di brindisi il secondo classificato il premio è un microscopio biologico digitale è uno di quelli che vedete lì dopo il primo sostanzialmente con la telecamera incorporata e questo premio va alla classe terza B che è la scuola media di Spongano poi abbiamo due classi vincitrici a pari merito quindi due primi classificati che sono la classe seconda A di specchia e la classe seconda C della scuola media di Alessano che vincono il monitor il famoso monitor eccolo lì che è stato già consegnato monitor interattivo multitouch 65 pollici ah che fanno parte ah sì l'istituto ah ok sono due scuole che hanno ottimo quindi due scuole che hanno contribuito a portare l'ustro all'intero comprensivo quindi a questo punto passiamo ecco ai laboratori immunology game quindi il primo classificato delle scuole secondarie secondarie di secondo grado di primo grado di primo grado è la scuola media di alessano che vince lo stereomicroscopio che invece è il primo dall'altra parte di quello che vedete sul sul tavolo complimenti ai ragazzi di alessano e poi abbiamo il laboratorio cambia mente no aspetto ecco oh grazie Stefano mi stava venendo il torcicollo allora abbiamo quindi il premio laboratorio immunology game scuola secondaria di secondo grado la classe seconda Enrico Fermi di Francavilla Fontana complimenti seconda B seconda B che sono qui ragazzi di Francavilla ci siete eccoli alzatevi fatevi vedere vengono da lontano quindi bravi ragazzi e grazie per essere venuti quindi passiamo ah no muovi tu pure qua eh appunto ah qua non si muove niente quindi mi state facendo eh lo state facendo apposta guarda faccio prima se mi giro così laboratorio cambiamente bene che abbiamo come laboratorio cambiamente scuola secondaria di eh primo grado eh primo classificato microscopio digitale e la scuola la classe terza B scuola media di Spongano bravi che chiarito siano pure qui giusto dove siete ragazzi eccoli là quindi il sempre eh cambiamente scuola secondaria di secondo grado primo classificato microscopio digitale la classe quinta B l'istituto Magliorana di Martina Franca della provincia di Taranto dove siete ragazzi dove siete eccoli bravi anche voi grazie per essere venuti per aver fatto questo bel viaggetto abbiamo finito Tonia ah e ovviamente ovviamente tutte le scuole che hanno partecipato eh intanto voi che avete vinto ma anche le altre scuole che hanno partecipato hanno ricevuto e riceverete la collana intera dei volumetti i ragazzi di Pasteur che sono undici volumetti di divulgazione scientifica che come potete vedere vanno dalle storie di cellule staminali l'ho scritto io lo posso dire dal sistema nervoso l'epigenetica il ruolo del microbiota guardie e ladri il sistema immunitario che l'ha scritto la professoressa Angela Santoni insieme ad un altro super esperto che è il professor Mantovani quindi è un modo carino divertente di raccontare la scienza come vi dicevo in modo rigoroso e se chi vuole da subito capire di che cosa si tratta può andare direttamente alla fine dove ci sono i fumetti il fumetto che racconta la storia in poche diciamo pagine la storia dell'intera diciamo struttura del volumetto quindi grazie penso che abbiamo finito possiamo proiettare in conclusione i video dei due vincitori del primo premio i primi classificati lasciatemi giusto proprio per fare una sintesi prima di lasciarvi al racconto dei ragazzi la sintesi di quello che è un po' il pensiero che è scaturito oggi sia dalle diciamo dalla discussione che dalle presentazioni voglio prendere in prestito due concetti di due personaggi importanti famosi uno quello di un grande scienziato che è Leonardo da Vinci che diceva appunto studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza perché quelli che si innamorano di pratica sono come il nocchiero che entra in naviglio senza timone o bussola che mai ha certezza dove si vada è il valore della ricerca scientifica di base per poter essere applicata poi alla cura delle malattie e l'altro non è quella di uno scienziato ma di un filosofo politico Antonio Gramsci che diceva occorre persuadere molta gente che anche lo studio ha un mestiere è molto faticoso con un suo speciale tirocinio oltre che intellettuale anche muscolare nervoso è un processo di adattamento è un abito acquisito con lo sforzo la noia e anche la sofferenza questo non per spaventarvi ma perché per poter arrivare alla conoscenza un po' di fatica ci vuole auguri ragazzi e vediamo i filmati dei due vincitori afferrabile apparentemente finito immaginiamoci un universo senza luce senza stelle immaginiamo di non poter vedere ciò che si percepisce di non poter sentire di non poter avere cognizione di sé del proprio essere del proprio esistere pura sensazione immaginiamo un buio cosmico un velo calato su ogni esistenza e in ogni parte dell'infinito tutto si spegne tutto muore immaginiamo ogni singola luce spetta ogni lampadina ogni stella ogni fuoco tutto ciò che ci circonda è vuoto scuro freddo inimmaginabile dopo appena 8 minuti dello spegnimento del sole ogni angolo della terra si troverebbe al buio le piante non avrebbero di che riprodursi tutto diventerebbe ghiaccio nel giro di poche settimane non potremmo esistere senza luce costante universale dell'universo radiazione elettromagnetica la cui velocità rappresenta il limite sintotico per tutte le velocità che possono essere impresse ad un qualsiasi oggetto materiale il cui spettro visibile all'occhio umano ci permette di osservare sentire vivere tutto è connesso a una luce ogni fenomeno che ci circonda è connesso ad esso ed è conoscibile solo grazie ad essa fino a 200 anni fa le persone vivevano e lavoravano per la maggior parte del tempo all'aperto sotto la luce del sole per ore e ore sin dai tempi dei greci e dei romani infatti la luce del sole era considerata un mezzo prezioso per prevenire e guarire molte malattie l'elioterapia sperimentata in maniera sempre più assidua sin dal rinascimento giunse ai risultati più eclatanti nel 1903 quando Nils Finsen vinse il premio Nobel per la medicina per il suo uso dei raggi ultravioletti contro la tubercolosi della pelle effetti positivi della luce ultravioletta sono ad esempio l'induzione della produzione di vitamina D nella pelle che garantisce numerosi benefici soprattutto a livello dermatologico un esempio ne è infatti la terapia puva e nella prevenzione di malattie infettive e degenerative come il tumore al seno al colon all'ovaio e alla prostata una giusta quantità di raggi luminosi può avere molti benefici sull'organismo e sull'umore questa evidenza scientifica si fonda sul fatto che la luce solare che filtra attraverso la retina dei nostri occhi è in grado di condizionare attraverso una via nervosa diretta l'attività della ghiandola pineale situata più o meno al centro del cervello la presenza o meno della luce solare infatti condiziona il rilascio di alcuni ormoni nell'individuo l'esposizione ai raggi stimola la produzione di serotonina che aiuta a mantenere la calma e la concentrazione al contrario l'assenza di luce solare attiva la produzione di melatonina responsabile del sonno bassi livelli di serotonina sono associati a una maggiore possibilità di depressione come il disturbo affettivo stagionale o SAD nell'arte la luce svolge un ruolo fondamentale essa rende possibile la percezione tridimensionale con le ombre attribuisce qualità alle superfici mediante riflessi con la sua posizione rispetto all'oggetto all'ambiente osservato crea giochi chiaroscurali che saltano annullano la volumetria dei corpi con la sua ampiezza e potenza crea illuminazioni violente o delicate concentrate o diffuse che attribuiscono un carattere espressivo all'ambiente o all'opera in tutte le civiltà la luce passa da fenomeno fisico ad archetipo simbolico Dio disse sia la luce e luce fu si squalcia così il silenzio e la tenebra del nulla nell'antico Egitto l'irradiarsi della luce accompagna la prima alba cosmica non per nulla il fondatore di un grande movimento religioso assumerà il titolo sacrare di Buddha che significa l'illuminato anche l'islam assume la luce come simbolo teologico un'intera sura del corano intitolata la luce complimenti di nuovo ragazzi vi anticipo che stiamo già lavorando per preparare la festa della scienza del 2022 che sarà a maggio speriamo veramente come oggi in presenza molto più numerosi sia voi che siete qui sia i ragazzi che sono collegati in streaming quindi intanto faccio un invito come dire preliminare i vostri dirigenti riceveranno tra qualche settimana la lettera di invito sarà se non sbaglio il secondo weekend di maggio e anche quest'anno avremo illustri ospiti non vi voglio anticipare nulla ma sicuramente sarà un'altra bella esperienza di festa dei saperi seguiteci e ci divertiremo insieme grazie auguri con un lampo un lampo di luce che ha creato l'universo gli alunni della classe seconda C della scuola secondaria di primo grado di Alessano presentano lampi di genio fari che hanno illuminato e guidato il cammino dell'evoluzione della nostra terra fino a farla diventare quel magnifico pianeta che oggi conosciamo andiamo sulle montagne russe attraversiamo oceni volando sugli aerei utilizziamo computer e smartphone guardiamo la tv tutte attività ordinarie che nel passato solo immaginarle era pura follia molti hanno riso delle idee di Galileo o Leonardo Nobel o Edison Pasteur o Mendel Newton o Rita Levi Montalcini e tanti altri pazzi visionari ma grazie ai lampi di genio di questi liberi pensatori si è inventato il nostro mondo immaginate la nostra vita senza elettricità o televisione senza telefono o automobile immaginate un mondo dove la terra è ferma in mezzo all'universo e il sole le gira pigramente intorno un mondo senza fuoco senza la musica senza libri senza acqua corrente e sapone senza antibiotici o anestesia si può provare ma sarebbe difficile qualcuno già impazzirebbe senza il suo cellulare alcuni lampi di genio hanno migliorato la qualità della nostra vita basta pensare ad alcune azioni quotidiane che noi diamo per scontate e che fino a pochi anni fa non erano proprio immaginabili comunicare con un amico lontano richiedeva molto tempo e non sempre era possibile poi i primi telefoni hanno annullato le distanze permettendo anche a persone lontane di potersi sentire oggi basta il tempo di un click per vedere amici che vivono anche dall'altra parte del mondo immaginate poi che fatica la vita senza ascensore e che sfacchinata pulire casa senza aspirapolvere e ciù per non parlare poi della lavatrice ci volevano i muscoli per lavare i panni immaginate poi come poteva essere mangiare una bistecca cruda un lampo di genio rivoluzionario è stato proprio la conquista del fuoco per riscaldarsi illuminare il buio scacciare gli animali e cuogere il cibo un altro lampo di genio l'invenzione del motore e zappare la terra diventa quasi quasi divertente e noi ragazzi come avremmo potuto risolvere i problemi di geometria se Pitagora con un lampo di genio non avesse inventato il suo torema come sarebbe oggi il mondo senza vaccini nel corso della storia le battaglie più pericolose l'uomo le ha combattute contro un nemico invisibile ma pericolosamente mortale e purtroppo ancora oggi queste battaglie continuano in passato non c'era difesa contro queste aggressioni ma poi grazie ad un lampo di genio una piccola iniezione ci ha aiutato e ci aiuterà ancora a sconfiggere tante malattie poi ci sono i lampi di genio di tutti i giorni quelli che ci aiutano a risolvere una situazione una giornata complicata un problema a scuola quelli che ci illuminano la vita i nostri piccoli lampi di genio bellissimi veramente e penso che voi siete i migliori comunicatori della scienza quindi continuate veramente così e magari ci rivediamo a maggio ci conto auguri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti